Questo esperimento dimostra che la spinta subita dal cilindro pesante è uguale al peso del volume del fluido spostato secondo il principio di Archimede. Archimede fu un matematico ed un fisico siracusano. Egli si occupò di geometria, di idrostatica, di ottica e di meccanica. La sua vita è ricordata attraverso numerosi aneddoti come ad esempio egli immergendosi nella sua vasca da bagno notò che la quantità di acqua che fuoriusciva fino all'orlo occupava lo stesso spazio del corpo che vi era entrato. È rimasta celebre l'esclamazione eureka che deriva dal greco e significa ho trovato. Infatti la leggenda narra che abbia pronunciato questa esclamazione a seguito di un suo esperimento, in particolare in occasione della scoperta del principio che regola la spinta idrostatica di un corpo in galleggiamento. La bilancia idrostatica è un tipo di bilancia che serve per misurare la densità di un corpo utilizzando la spinta dell'acqua secondo il principio di Archimede il quale afferma che ogni corpo immerso parzialmente o completamente in un fluido riceve una spinta verticale dal basso verso l'alto uguale per intensità al peso del volume del liquido spostato. La bilancia idrostatica è realizzata in metallo ed in legno e differisce da una comune bilancia. Sotto il piattello dotato di gancio si sospendono in successione un cilindro cavo e un cilindro pesante chiuso che si è realizzata perfettamente al primo. Stabilito l'equilibrio si versa dell'acqua in un vaso di vetro in cui il secondo cilindro è completamente immerso. La bilancia pende dall'altra parte del piattello. Per ristabilire l'equilibrio si versa dell'acqua nel cilindro cavo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.